Cistite, un disturbo, una malattia frequentissima, soprattutto tra le donne, con grave dolore spesso. Eppure i rimedi ci sono. Ascoltiamo. Difficile trovare una donna che non sappia cosa sia una cistite, perché tutti o quasi almeno una volta nella vita ne hanno sofferto. Per tante è solo un disturbo banale che in tre giorni va via, ma c'è anche chi purtroppo ha imparato a conviverci. Valentina, quante volte in un anno soffre di cistite? Circa 6-7 volte all'anno. Quanto durano questi disturbi? Durano 3-4 giorni, la fase acuta. E da quanto tempo ne soffre? 10 anni. La cistite è un processo infiammatorio della vescica, di solito determinato da un'infezione batterica, e si distingue in forme complicate e non complicate. Le forme complicate sono quelle che si verificano quando esistono le alterazioni anatomo e funzionali delle vie urinarie. Le forme non complicate, che sono le più frequenti, invece, si verificano in soggetti che hanno un apparato urinario perfettamente sano, e pertanto guariscono spontaneamente senza bisogno necessariamente di ricorrere alle terapie antibiotiche. La diagnosi della cistite si avvale di un esame delle urine, con urinocultura ed eventuale ricerca degli antibiotici a cui questi germi sono sensibili. A questo poi, in alcuni casi, soprattutto quando i cistiti diventano ricorrenti, è necessario associare un esame ecografico dell'apparato urinario per verificare che non ci siano alterazioni. L'errore più frequente è la cura fai-da-te, che spesso si risolve in un abuso di antibiotici. Un uso inappropriato o eccessivo potrebbe infatti creare una resistenza ai batteri, rendendo inefficace ogni terapia. Ecco allora alcuni semplici consigli per evitare che la cistite diventi cronica. È possibile prevenire la cistite bevendo molta più acqua, mangiando molta più frutta e verdura, andando a urinare quando se ne avverte il bisogno e non dilazionando lo stimolo, andando a urinare prima del rapporto sessuale e non dopo il rapporto, avendo buona cura della propria igiene, senza però esagerare con lavande vaginali con soluzioni schifettanti che possono alterare la flora batterica vaginale.